Eccoci di nuovo qua, Furiagella riprende il suo posto all'interno del centro Invictus ma prima di dare il via ad una nuova serata di wrestling italiano superiore facciamo un passo indietro a quello che successe la scorsa settimana quando il cosiddetto Beer Club si è impossessato del centro Invictus e di tutti gli strumenti all'interno per mandare in onda una trasmissione letteralmente fuori legge. Fuori legge come quello che successe al termine di Superior Bout, ricordate le ultime immagini, immagini forti. Io dal vivo ho avuto lo shock non solo di assistermi ma di essere parte insieme al sistema, ai fan del sistema, dello sgomento generale. Ecco che quello sgomento ha lasciato un quesito aperto, il finale di un match che non si è concluso tra Nick Wave e Adriano ancora ci fa chiedere chi sia il miglior wrestler tra i due, chi sia il legittimo detentore della cintura del campione italiano di wrestling. In questo contesto ancora una volta Paolo Cellammare, il nostro direttore generale si è surclassato facendo due cose. La prima ha riaperto le porte del sistema al Beer Club, quindi il Beer Club è stato ufficialmente stanato dalle sue posizioni di retroattacco e non solo questo. 26 novembre, ricordatevi questa data, segnatela sul calendario perché 26 novembre è la data di ultimo round. E a ultimo round ci sarà davvero un ultimo round valevole per il titolo di campione italiano di wrestling. Ancora una volta Nick Wave e Adriano, questa volta avremo sicuramente un vincitore e un detentore legittimo del titolo, ma non solo questo. Saranno tante le sorprese di quello spettacolo come quello che sta per cominciare stasera. Per essere parte di ultimo round andate sul sito siw.show e comprate il vostro biglietto, comprate le vostre emozioni, fatele parte di voi, noi ci saremo, quindi fate in modo di esserci anche voi. Ma ora è il momento di smetterla con l'indugi, è il momento di un grande show, uno show targato SIW, Tuesday Night System.